Buon pomeriggio a tutti voi da Marcus, buon inizio di settimana, nuovo video, nuovo aggiornamento e quante cose ci sarebbero da dire in questo video, ma quanti scontrini sono arrivati? Ne conto più di 900, ne andremo a vedere solo alcuni alla velocità massima perché se no questo video lo dedicheremo solo agli scontrini e quanti ne sono arrivati ancora stamattina? Allora andiamo al sodo, non stiamo lì a parlare, a noi ci interessano le cose pratiche, ci interessa il succo della situazione 9 novembre il 3 di Palermo era già sortito, ma non lo gioco più il 3 perché poi non si ripete poi si ripete, no non si ripete, numeretti da 1 a 5 con l'ambata contata si fanno rivedere perché la conta ritorna su Palermo e di nuovo Genova più di lì questo 3 non poteva scappare sulle altre ruote e quindi è costretto per così dire a rimanere sulla ruota di Palermo e di Genova ma può girarsi come 30, quindi attenzione il 3, il 3, due volte è uscito il 3, adesso di nuovo il 3 Genova-Palermo e potrebbe arrivare come 30 e 3 e quindi adesso per quello vi dico si continua la condizione perché si è sbloccata adesso la condizione è arrivata al 71, non nel 17 ma non è finita perché è a Monte guardate, c'è ancora il 30, c'è ancora il 17, c'è ancora il 17, c'è ancora la condizione Somme X2, c'è un altro 71, un altro 71, un altro 71 e allora per quello vi dico che la condizione è aperta adesso si è sbloccata la situazione si prosegue o consigliata ancora per 2-3 colpi quindi la condizione rimane tale quale Genova-Palermo poi torniamo ai riscontrini e torneremo anche al discorso dell'ambo oltre perché mi state macinando veramente le scatole guardate, io lo faccio ancora questa volta poi quando ci sarà una nuova opportunità quindi di calcolo ve la farete voi non statemi a trattassare perché poi avete visto, sono stato costretto a chiudere i commenti sono stato costretto a disattivare i commenti perché è una cosa impossibile guardate che è anche maleducazione no, ve lo dico perché allora io faccio un video su YouTube ne ho fatti addirittura due video che fra l'altro tutte le persone lo proprio bloccate perché veramente no c'è una maleducazione veramente incredibile io faccio vedere una cosa bene, fatta bene addirittura nel secondo video l'ho spiegata talmente bene che dai, non è possibile non imparare fatemi il piacere, applicatevi ve l'ho sempre detto perdetevi 5 minuti della vostra vita ma andate a imparare un qualcosa che ve l'ho fatto vedere ma per voi, mica per me allora 3.17 ancora Ambo e Ambetto Genova-Palermo questa settimana due o tre colpi vedremo perché questa situazione ve l'ho fatta vedere ce ne sono ancora tante a Monte si sta sbloccando adesso e quindi questi numeri ricontinueranno a ritornare su Genova e Palermo c'è stato il 3.71 il 3 di nuovo 3.30 Genova-Palermo con il 17.71 tutto è a Monte tutto è aperto Ambo è sempre Ambetto per questa previsione quindi 3.17 per questo Ambo Ambetto e poi se volete anche mettere l'Ambetto nei quattro numeri siete liberissimi di farlo nessuno vi obbliga a non metterlo situazione ancora aperta quindi questa condizione è ancora probabilmente questa settimana vi ripeto si è sbloccata la situazione quindi adesso vedremo il risultato se darà subito il risultato con un altro Ambo o qualcosa di più in merito speriamo me lo auguro allora condizione conclusa poi la classifica del 90 è sempre la stessa andiamo subito a vederla questa ormai è tale e quale non si cambia è vero c'è stato il 9.90 di nuovo sulla nazionale ma non ha interessato queste ruote ancora quindi non la cambio perché Genova, Milano e Napoli sono ancora le primarie Firenze la secondaria su Roma voglio citare che è uscito già due volte il 90 quindi attenzione Firenze ripetendovi ancora una volta che ha un ritorno di fiamma di ancora tre ambate contate quindi attenzione il Roma ce ne erano quattro tolto Roma ancora tre per Firenze Genova, Milano e Napoli le somme 90 ancora la scacchiera si è congelato tutto lo sapete che io quando utilizzo questa parola congelare non andiamo in merito nel discorso perché comunque vabbè Genova, Milano e Napoli sono le tre ruote primarie vedremo se questa settimana sforcerà il 90 su queste tre ruote e quindi classifica che rimane tale e quale per i nuovi queste sono le le posizioni più forti quindi dove c'è il doppio più quindi dove c'è il doppio più la posizione in teoria che dovrebbe essere più forte statisticamente più forte e poi dove non c'è più ovvio è la secondaria dove è di importanza anche lei poi ultima cosa mi raccomando io ve lo faccio vedere solamente ancora questa volta poi ah prima vedremo gli scontrini aspettate mi stavo dimenticando degli scontrini ragazzi io me li faccio vedere velocissimi perché cioè non parlo eh si parla di 900 e passa scontrini guardate io vado veloce più possibile che posso vado avanti ragazzi ce n'è una marea un'infinità poi avete visto come al solito ah c'è stato anche poi l'ambeto nel gruppo privato di nuovo non secondo colpo ma mi sembra sesto settimo colpo ha dato due volte quella condizione e ce n'è una vagonata una vagonata previsione che rimane tale e quale mi raccomando mi raccomando adesso quello che vi volevo far vedere quello che vi volevo far vedere io poi non me lo faccio più vedere perché non ho tempo non ho tempo di farvi vedere sempre queste cose su dovete imparare dovete imparare l'ho fatto per alcune nonnine sono stato sincero perché poverine ci sono due tre persone anziane che non riuscivano a fare il calcolo ho detto vabbè per questa volta dai allora mi raccomando ambo e ambetto ambo e ambetto tutto è nazionale ambo e ambetto tutto è nazionale queste sono le condizioni che porterete voi io sinceramente preferisco portare avanti Genova Palermo perché le condizioni sono effettivamente fortissime ve l'ho detto il numero tre è arrivato il 71 è arrivato ma si continueranno a ripetere sulle stesse medesime di Genova Palermo allora 19.84 fate bene i calcoli fate bene i calcoli dovete sommare questo con questo in verticale questo con questo in verticale fate i risultati fate la differenza fra i due poi lo dividete per due e poi tutto il resto ma come fate a non capire dai poi c'è questo qua divertibile di nuovo dal 6.75 tutte nazionali ambo e ambetto va bene concludo il video dicendovi mi raccomando moderazione nel gioco questa è l'ultima volta che vi faccio vedere questo perché poi sarete voi gli autori dei vostri calcoli delle vostre previsioni io stoppo qui la faccenda perché non lo trovo giusto quindi vi do una cosa su youtube faccio tanto di video e tanto di spiegazione dettagliata impossibile non imparare no è impossibile pazienza il primo video che ho fatto confusione con le posizioni dei numeri perché è stato uno sbaglio mio ma poi il secondo video porca miseria ragazzi vi rilascio il link che come primo messaggio la fisserò di nuovo anche per i nuovi che consiglio a loro l'iscrizione al canale che è semplice e gratuita mi raccomando date una spallata a me al canale che mi sembra di meritarlo non credete quindi questo è quanto non vi dico più nient'altro rivediamo la condizione di nuovo quindi del Genova Palermo questa ora più che mai secondo me perché adesso si è sbloccata la situazione e si ripeteranno su Genova e Palermo ancora 3,30 17,71 ancora questa settimana vediamo come sta poi classifica integrale mi va via la voce è questa buon pomeriggio noi ci risentiamo alle prossime news e basta con gli scontrieri perché veramente sono una valanga devo ancora scaricare l'altro gruppo che è rimasto nel cellulare ci risentiamo da Marcus è tutto e speriamo in un'altra mega vincita di massa ok ciao da Marcus sono ancora buone cose a tutti ehi non dimenticati di iscriverti ma soprattutto attiva la campanellina perché facendo così potrai ricevere la notifica dei nuovi video grazie